La top model Carmen Kass nei panni di Grazia De Leda, premio Nobel per la letteratura, la sua potenza, le sue radici e un amore ambientato in una foresta. Con Marras, dire sfilata è riduttivo perché ogni uscita è un pezzo di una narrazione, mescolanza di tessuti, motivi jacquard tipici della tradizione sarda e streetwear. Una collezione che segna un punto a capo nella storia del brand, passato all'80% al gruppo Calzedonia. Ci sono, come dire, degli stimoli e delle energie nuove per cui io mi ritrovo, pensavo di lavorare molto meno, in realtà mi ritrovo veramente a sentirmi addosso vent'anni. La forza della tradizione che lega il brand Biagiotti al Piccolo Teatro di Milano, una storia cominciata 25 anni fa da un incontro fra Laura Biagiotti e Giorgio Streller e che oggi Lavinia, in omaggio a sua madre, racconta attraverso questa collezione che dialoga con lo spazio. E lo fa con tessuti iridescenti, paillettes che si alternano al cashmere. Il cashmere su cui Brunello Cucinelli ha costruito il suo successo nella moda, oggi ne importa anche dall'Himalaya, dove sostiene le piccole comunità un progetto condiviso con Re Carlo d'Inghilterra e Federico Marchetti. Per questa collezione colori neutri, tocchi di blu e capi speciali, lavorazioni che richiedono anche mesi e soprattutto capacità manuali che si tramandano nell'azienda di Solomeo. Io credo che noi dobbiamo fare cose belle, che si possono conservare negli anni, che possiamo lasciare in eredità e forse non buttare quasi mai.